Svegliato ora, ho preso la mia Red Bull, ora ci guardiamo Denver e Minnesota, se gode Comunque i tifosi quando dicono Let's Go Nuggets, sembra Let's Go Lakers E Denver ha vinto le ultime due, cioè io mi aspettavo tutto tranne che vincessero due partite a Minnesota Io ero convinto che vincessero una partita e poi che vincessero gara 5 Magari, io ero convinto che perdesse 4-2 a Denver Più che altro per le prime due partite, cioè le prime due partite Minnesota ha dominato Ora non so se Minnesota ha dominato o semplicemente Denver non ha giocato Perché Jamal non c'era raga, è tornato Jamal e non ha iniziato a fare quello che stanno fa nel senso Gordon è un altro giocatore rispetto a gara 1 e gara 2, praticamente un altro Ma anche Caldo il Poppe difensivamente, un altro giocatore Perché ci ha fatto una gara 4 raga, spettacolare secondo me Ripeto, ha dimostrato veramente che lui secondo me è il giocatore più forte Però secondo me quest'anno potevano darlo a Shai o a Donchic Non c'è, non è che non... Il fatto che sia il miglior difensore dell'anno se ne possiamo ragionare E poi, cioè qui, poi fa poco, qui c'è poco da fare Ovviamente questo, questa è un'altra roba Altra roba Perché questo è un tiro che prendi in allontanamento con Gobert che è 2,16 che ti salta addosso Tu dai semplicemente parabola Questi sono mani raga, qua non c'è nient'altro, mani Mani perché lui qua dà parabola e non può fare niente Però se non lo dai a Shai quest'anno o non lo dai a Donchic Cioè quando è che glielo dai? Poiché questo sia il più forte La Lega, poco ma sicuro Ha vinto un MVP delle Finals E darla un altro Antonio Edwards secondo me in gara 4 ha fatto il massimo che poteva fare Nel senso, al di là dei punti Cioè non è che poteva fare 85 punti lui Non è stato aiutato Nel senso che offensivamente a parte lui e gli altri poca roba Nel altro è come se fosse scattato qualcosa nella testa di Jokic Come per dire, ma io sono Jokic, porco di... Ma mi devo far pisciare in testa da Gobert e Reed Questo è un canestro facile secondo me Per lui è facile Eh lo spingo Lo spingo Eh il tanto è già fatto qua Cioè finché lui lo fa arrivare lì sotto Eh, una volta che è arrivato qua che fa? Sei in difesa, una volta che lui è arrivato lì cosa fai? E alzi le mani Cosa puoi fare? Il problema è che lui qua di sinistro Di sinistro Di sinistro Ok Bella difesa Sfiga qui Carl Anthony Anche lui ha mancato in gara 4 eh Questi fanno paura comunque E G Jackson fuori da Denver è un pazzo scatenato Denver sembra un giocatore vero Ah si è spostato Anthony Edwards Ha visto Jokic che caricava sta spalla Ha fatto Raddoppiato Carl Anthony Wow Bank Bello Jokic contro Contro Reed Che è l'unico secondo me di Minnesota Che secondo me lo marca Lo marca Sì Lo marca meglio rispetto agli altri Quando Jokic ti spinge sotto canestro Secondo me Reed riesce a reggerlo di più rispetto a Gobert Quindi non lo fa avvicinare Bravo Reed Mamma Reed Cioè i centimetri I centimetri che ci fai Se poi non lo reggi fisicamente Quando le porta sotto Che ci fai con i centimetri Eh No qui ancora Qui non devi cercare l'anticipo Cioè o sei sicuro di prenderla Vabbè fallo Perché Che cazzo Che cazzo di falli Che cazzo di falli Che fischiano comunque Possono anche lasciandare Cioè Ma lascia andare Ma lascia andare Però vabbè Cioè raddoppiano Carl Anthony E Anthony Edwards Boh non vedo Non vedo partita onestamente Cioè mi sembrano Veramente in controllo Denver Ancora presto Però Fanno troppa fatica Offensivamente I Minnesota Non è passato A quareggio